Giornata di grande festa ieri a Bressanone presso la facoltà di scienze della formazione della lub in occasione della consegna dei diplomi di laurea dei 243 ex studenti che quest'anno hanno concluso il loro ciclo di studi universitari presso la facoltà di scienze della formazione 19 si sono laureati in servizio sociale e altri 27 presso il corso di laurea per educatori sociali 24 sono stati invece gli studenti che si sono laureati in scienze della comunicazione e cultura presente alla cerimonia anche il rettore della lub il professor Walter Lorenz è un momento di dimostrare che l'università è veramente collegata con la comunità e che i diplomi hanno un valore non solo nel mondo accademico ma anche nella vita quotidiana per quanto riguarda il futuro degli insegnanti formati a Bressanone in 82 hanno ricevuto la laurea per la scuola primaria e 29 per la scuola dell'infanzia lingua tedesca 76 laureati per la scuola primaria e 44 per la scuola dell'infanzia lingua italiana 7 per la scuola primaria e 5 per la scuola dell'infanzia lingua labina 9 ex studenti hanno completato il percorso della laurea magistrale in innovazione e ricerca per gli interventi socio assistenziali educativi 3 sono stati gli ex studenti che hanno ottenuto un dottorato di ricerca in pedagogia generale pedagogia sociale e didattica generale sono stata una studentessa forse anche un po sì una che era sempre qua che ha studiato tanto diciamo mi aspetto per il mio futuro che posso sì che posso diciamo partecipare a poter muovere qualcosa il percorso di studio è andato molto bene secondo me cioè mi auguro per il futuro che trovo insomma che ho un futuro brillante e posso svolgere la mia professione e sì sceglierei questo corso di studio di nuovo innanzitutto mi è andata bene perché avevamo dei professori che ci hanno accompagnato veramente molto durante lo studio e ci hanno dato come l'aveva definita una volta la professoressa dozza questo assetto di utensili che poi possiamo utilizzare nella nostra vita effettivamente era così visto che già lavoravo mi sono trovato in una situazione che imparavo cose teoriche che poi potevo anche applicare nella pratica